Benvenuto Fabio, sei da pochi giorni con il ritiro di Primiero, ti chiedo innanzitutto le prime impressioni che hai avuto del gruppo. Gruppo molto positivo, stiamo lavorando bene, anche se io ho già fatto solo due allenamenti per ora, ma c'è grande intensità, ci divertiamo sul campo e per quello che ho visto finora stiamo lavorando veramente bene. Vercelli, Cesena, hai già fatto la Serie B, stai cercando pian piano di affacciarti, di affermarti tra i professionisti, che punto hai della tua carriera a Verona? Io spero che sia la svolta, so la piazza in cui sono appena arrivato, so che è una piazza che vive di calcio e quindi devo cercare di dare il massimo assieme ai miei compagni per cercare di portare la città in alto. Due date, prima di lasciarti le domande ai colleghi, 29 marzo 2014, gol di Eguelfi contro la primavera del Verona in campo tra l'altro c'era Zaccagni e anche 18 marzo, se non andiamo, 2017 in campo a titolare Vercelli-Verona. Un ricordo di quel gol e un ricordo di quella partita dove tra l'altro li trovi tanti compagni oggi? No, il gol in primavera contro l'Ellas lo ricordo bene perché è stato l'unico gol che ho fatto nell'anno della primavera e mentre due anni fa a Vercelli contro l'Ellas mi ricordo che è stata forse la partita per me più importante dell'anno perché l'Ellas era la squadra da battere diciamo e quindi è stato come per noi giocare contro la prima in classifica. Lo sarà anche quest'anno secondo te l'Ellas, la squadra da battere in Serie B? Io spero proprio di sì e noi stiamo lavorando proprio per quello, quello che dobbiamo fare noi è lavorare sul campo per cercare di stare là davanti. In classico 95 sei un difensore, ruolo terzino sinistro, descriviti un attimo quali sono le tue caratteristiche? Sono un terzino di spinta, ho piede per mettere la palla in mezzo, sono più forte ad attaccare che a difendere, poi negli ultimi anni gli allenatori che ho avuto mi hanno curato molto di più la fase difensiva. Arriva in prestito dell'Atalanta l'anno scorso a Cesena, purtroppo una delle squadre che ha dovuto salutare il calcio professionistico, ti chiedo un commento appunto in merito a questa bruttissima pagina del calcio italiano. È davvero una brutta pagina e dispiace soprattutto per la gente di Cesena perché era una città, anche Cesena attaccata tanto alla squadra e poi c'erano tante famiglie che dipendevano dal Cesena Calcio che purtroppo adesso sono a casa. In giallo blu hai ritrovato secondo me un giocatore di grande qualità come Karim Laribi, come l'hai ritrovato e quanto sei già integrato secondo te in questa nuova squadra? Si è integrato già benissimo, conosce tutti, scherza con tutti, poi io l'ho sentito prima di venire per chiedere un parere appunto sulla squadra in cui sarei dovuto venire e non ha esitato un attimo a dirmi di venire assolutamente. Una battuta per me, che effetto ti fa avere un campione del mondo come tuo allenatore? Ha fatto il mio ruolo anche il mister, ha fatto il mio ruolo per tutta la carriera quindi penso che in pochi possano insegnarmi questo ruolo meglio di lui.